Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oggi siamo al Rifugio di Emergenza, qui al Forte di Guardia, e andremo a prendere una quest da Glaren che sta dietro di noi. Appena inizia del gioco, Glaren vi darà tre quest. Vi chiederà di uccidere un Sassarok, un Inox e una Moldenotena. Una volta fatte queste tre quest, vi chiederà di uccidere tre mostri molto più potenti. E oggi andremo ad affrontare quello più potente di tutti, credo. Il mostro a tre teste. Vediamo. Glaren dice sempre le stesse cose e dice che adesso ci sono dei mostri sconosciuti più forti. E noi chiediamo il mostro a tre teste, chiediamo informazioni. L'informazione arriva da un viandante e parla di un mostro sconosciuto avvistato al Ponte di Ilia, nelle terre di Firone. Mentre attraversato il fiume è stato attaccato da un mostro a tre teste e ha abbandonato i suoi averi per scappare. Voglio toglierlo di mezzo per garantire la sicurezza dei viandanti, ma non sarà una passeggiata. Mini sfida, caccia al mostro a tre teste e infatti ragazzi questa non è una passeggiata. Se volete potete prendere anche tutte e tre le queste, io non le prendo semplicemente perché devo fare gli altri tutorial. Allora, innanzitutto ci sono dei prerequisiti abbastanza importanti. Se vedete uno zaffiro, mettetelo sopra lo scudo perché il mostro è un drago di fuoco a tre teste e fa caldo. Lo zaffiro ci aiuta a mantenere la temperatura bassa. Un'altra cosa importante, portateli un'arma a due mani che faccia un po' di danno. Questo qua è tosto il soggetto. Abbiamo preso una spada, uno spadone a due mani e ci abbiamo messo il corno, il coso del grubrid nero. Però non è finita qui. Ci abbiamo anche, dove sta? Qui come armatura abbiamo preso i vestiti da barbaro che sono disponibili all'inizio del gioco. Ci danno un po' di attacco in più. E infine dobbiamo cucinare qualche cosa ragazzi. Con questo non si scrive, questo è tosto. Allora, cuciniamo delle cose che ci danno più attacco. E per cucinare delle cose più attacco possiamo per esempio utilizzare 5 banana lama. Uno, due, tre, 5. Facciamo attacco di livello 3 per 4 minuti però. Oppure se non avete banana lama una cosa che si, lo spadrolo che si trova. Un giro. Ok. E cosa vuoi ci dovete dare attacco di livello 3? Esatto. E poi stanno anche i pesci che danno attacco di livello 3. Sempre 5 anni dove dovete cucinare. Un'altra cosa prima di partire all'avventura dormite. Assolutamente. E infine, se andiamo nel diario di viaggio e selezioniamo una macchina in sfida, ci esce esattamente dove sta il mostro. E se andiamo anche sulla mappa, vediamo che il mostro sta qui. Sul punto del lago di Ilia. E' il metro più veloce per arrivarci probabilmente. E' la tour dell'alto piano più un po'. Tra altre cose, se non ce l'avete, potete anche venire da qua sopra. Tipo l'alzacrario di Isan. Dall'isola celeste delle origini. Comunque noi ci vediamo esattamente qui. Venite da questa parte davanti al ponte. A fra poco. Ragazzi, ricordavo male, dobbiamo andare a sud del lago. Perché a sud, Miceda, la ditta Miceda ci ha messo un po' di mani reali da costruzione a disposizione. E ci serve un minimo di struttura. Prendiamo uno di questi. Due di questi. E' un altro di questo. Ok. Quello lì è la base. Questa è l'altezza. E' questo qua. E' il tetto. Vediamo se riusciamo a montare. Ok. Allora ragazzi, questa è la specie di costruzione scrausa che abbiamo fatto. Questo è il sistema, credo, più semplice per fare il drago. Ci serve per usare Ascensus e poter entrare in bullet time. Ci si riesce anche sotto questo portone. Ve lo dovete tirare dietro. Il problema è che il drago si resetta. Ehm. No! La nostra super costruzione. Aspetta un po'. Mandiamola un attimo più avanti. Il problema è che quando inciampiamo questa qua cade. Perché finisce l'effetto dell'ultramano. Ok. Allora, dobbiamo metterla orientata verso il drago. Così quando scendiamo siamo lontani dalla parete verticale. Anche se sembra un poco controintuitivo. Però è così. Ah no, aspetta. Prima di arrivare... Madonna. Se viene a peovre non fa niente. Il problema è che se vengono i fulmini dovete essere attenti a non avere armi di ferro. Quindi abbiamo martirio del grublin. Arco. Ehm. Mettiamo questo. Questo è un altro problema che non mi dice la durabilità degli archi. Scudo con lo zafiro ce l'abbiamo. La pozione. La pozione. La pozione. Ehm. Dove sta la pozione? Eccola qua. La segnaliamo perché potrebbero succedere tante cose. E la pozione mi sembra che dura solo 4 minuti. Andiamo avanti. Ci sono altri sistemi che abbiamo provato un... Forse un po' più semplici. Tipo quello lì di mettere... Diciamo una volta mi sembra che ho 5 o 6 scudi. Abbiamo montato un razzo dietro ogni scudo. E lo utilizzavamo per andare in area e usare il bullet time. Ok ragazzi. Qua dovrebbe andare bene. Vediamo se cade. Ehm. Incominciamo con un Ascensus. Ok. Ragazzi una cosa. Questo qua ce lo brucia il pezzo di legno. Infatti se... Non lo dobbiamo... Non dobbiamo assolutamente farlo bruciare. Dobbiamo essere abbastanza veloci con le frecce. 3, 4, 5 e 6. Ci dovremmo essere, no? Fermi. eccozione. Ehm. Non siamo troppo avidi ragazzi. Non deve assolutamente muoversi. Se si muove siamo morti. Ok. Uno. Due. E siamo pure attenti al vigore ragazzi. Ho sbagliato. Oh vai. Come sto salzando. Ok. Vediamo come si è messo. Se incomincio a sparare il fuoco siamo morti. Molto probabilmente. Uno. Ok. Facciamo l'arma. ragazzi. Più è forte l'arma e più è semplice. Perché dovete ripetere meno volte. Questo è tutto. Ok. questo si alza proprio veloce però eh. Uno. Due. Oh ma con tutto il buffo dell'attacco eh. È proprio... No come il martello del group non sta per rompersi. E ma ora non abbiamo altre armi scrause. Come facciamo? Ehm. Dobbiamo usare... Fatemi vedere un attimo che altra arma. Ehm. Questa qua non è cosa. Usiamo questa qua 26 però è gnevo. Proprio usiamo questa ragazzi. Io se non ce la facciamo in questo giro ragazzi dopo cambierei anche l'arco. perché si potrebbe anche rompere l'arco eh. Ma qua secondo me ci facciamo proprio poco danno. Via via via. Pure questo si sta per rompere. Cambiamo anche l'arco abbiamo detto ragazzi. mettiamo l'arco. Ok. Ok. Due. Tre. Quattro. Cinque. E sei. Ma si è rotta. Non so che cosa devo usare. Usiamo questa ragazzi. Non lo so. Madonna. Con tutta la pozione di attacco. Ok ragazzi. Anche questo è andato. Caccia al mostro a tre teste. E niente cuore. Comunque questa qui è sicuramente un'ottima strategia. quella la degli razzi è più semplice perché non avete. Ogni volta non dovete andare avanti e indietro. Prendete il razzo. Andate su. Eh. Detto tutto ciò. Possiamo tornare alla forte di guardia. Al rifugio di emergenza. Fra un secondo. Grazie siamo tornati al rifugio di emergenza. Vediamo. Glaren che dice. Ok. Va benissimo. Dice sempre le stesse cose. Ok. Va bene. Ok. Ho sconfitto un mostro. Glaren. Ha tre teste. Ha detto. Sul serio? Mostro a tre teste. Fammi controllare. Ha esso tutto quadra. L'ultimo rapporto parlava di un mostro a tre teste. Si chiama Griok ed è stato sconfitto. Hai abbattuto un mostro avvolto nel mistero. Le voci che girano su di te per tutte i rule corrispondono al vero. Questa è una piccola ricompensa per ringraziarti di quello che hai fatto. Ti prego di accettarla. Ragazzi. Questo è quanto. La mini sfida caccia al mostro a tre teste è stata completata. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial. Ciao. Se il video vi è piaciuto vi è stato aiuto e lasciate un like e aiutate tantissimo il canale. Grazie. 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 Grazie.